Dunque, Gaston Brugman al Parma, triennale con opzione, l'attaccante Matteo Brunori al Delfino, entrambe le operazioni con la stessa formula, prestito neroso con obbligo di riscatto. Una grande opportunità, non c'è dubbio, per il calciatore di Rosario, prossimo alle 27 primavere, forse l'ultimo treno per imporsi nel massimo palcoscenico del calcio italiano. Arrivato a Pescara nell'estate 2012, proveniente dall'Empoli, ruolo trequartista, zero presenza in Serie A, prestito a Grusseto in B nel gennaio 2013 e il ritorno in Biancazzurro la stagione successiva. Sicuramente la migliore per Brugman, che nel ritiro di Rivi Zondoli convince Pasquale Marino, prima regista nel 4-3-3, poi la svolta nel 3-4-3. Al suo fianco soprattutto Zuparic, una sorta di schermo davanti alla difesa. L'uruguayano offre il meglio di sé, tutto campo sulla fascia centrale, in posta rifinisce e riesce a realizzare anche quattro gol. Splendido la solo di Latina nelle immagini, in panchina c'era Cosmi, subentrato a Pasquale Marino. Sul più bello però il ginocchio fa crack, sfida l'Adriatico col Siena, incidente banale. Di fatto Gas perde quasi un anno, rientra con Marco Baroni in panchina. Col Vicenza in casa il gol della liberazione. Sfiora la Serie A nel duplice amaro spareggio col Bologna. Oddo in panchina, massima serie che tuttavia ritrova Palermo, ma non va come dovrebbe. 14 gettoni, niente riscatto da parte del club rosa-nero. Il ritorno a casa, appunto Pescara, che Gas ha sempre ritenuto tale. 27 presenze e un gol nel match interno con la Lazio, con Zeman in B, un ruolo mai digerito totalmente. Quello di Mezzala, che però gli consente, grazie alla sua grandissima qualità, di innescare le punte e soprattutto di finalizzare. 6 gol, il massimo nella sua carriera, più uno, un altro gioiello ad Avellino, con Epifane in panchina. L'ultimo campionato, 31 presenze e 4 gol, diversi contrattempi di natura fisica, soprattutto nel girone di ritorno. Ed ora la grande chance di misurarsi di nuovo nel palcoscenico più importante. La Serie A, un sincero, grandissimo, in bocca al lupo. Grazie.